bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tante novità per quello che riguarda il nostro fortnite sono giorni di attesa sono giorni molto difficili facciamo fatica ad arrivare fino a lunedì quando ci sarà l'evento alle ore 20 ovviamente io sarò in live insieme a voi e siamo anche molto meticolosi su quello che voglio farvi vedere perché girano tantissime immagini fake riguardante il prossimo capitolo quindi mi raccomando occhio a quello che vedete occhio a quello che vi viene detto oggi voglio far vedere un trucco molto bello da utilizzare in combattimento ma anche parlare di alcune cose che sia ninja sia altre persone hanno detto prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un'immagine davvero incredibile questa immagine sta cominciando a fare il giro dei vari forum dei su reddit insomma su tutte le piattaforme dedicate a fortnite perché è una cosa molto curiosa come vedete siamo in una specie di hangar ci ricorda quasi quello del vulcano vi ricordate quando è stato modificato in base nel precedente capitolo e notiamo che sulla destra c'è quello che sembra un artigliere brutto appoggiato al corrimano che sta guardando la creazione di quello che potrebbe essere un nuovo veicolo o meglio un nuovo velivolo c'è un brutto addirittura la e guardate il rapporto tra questo veicolo e il brutus è veramente incredibile quanto potrebbe essere grande non sappiamo da dove arriva questa immagine però se fosse una fan art beh è fatta veramente benissimo potrebbe anche essere una schermata di caricamento per quanto mi riguarda io vi consiglio sempre di prendere con le pinze però era fatta talmente bene che meritava meritava di essere un attimo guardato davvero bella chissà se ci sarà magari qualche modifica chissà se per caso nel prossimo capitolo gli artiglieri brutto possono avere un ruolo un po più rilevante staremo ovviamente a vedere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo fare due due punti della situazione allora oramai si sta veramente affermando la teoria che è quasi confermata diciamo dai più grossi leakers diciamo anche quelli più vicini realmente al team di epic games che nella prossima season quindi nella stagione 3 nella parte di acqua che sommergerà così si dice parte della mappa ci saranno degli squali questi squali come abbiamo visto potranno essere domati quindi con la canna da pesca pescati proprio e utilizzati per essere portati in giro e in realtà mi era sfuggito di farvi vedere ieri che questa immagine quindi uno dei poster presenti al lago languido mostra proprio uno squalo con un ignara banana sopra che sta nuotando sappiamo che sono dei teaser molto probabilmente della prossima season e potrebbe appunto confermare che quello che stiamo dicendo sia corretto e che quindi veramente arriveranno degli squali cavalcabili anche qua ragazzi sempre da prendere con le pinze ma tanta tanta roba staremo a vedere e andiamo avanti a parlare di un altro argomento molto curioso perché si parla invece di meccaniche di gioco allora fortnite come sapete durante le partite nel battle royale in pubblica nei server privati nei tornei è un gioco che è in continua evoluzione soprattutto ai livelli massimi quindi dove c'è il competitive quello serio questo è uno dei motivi per cui nonostante si pensi di aver scoperto tutto nonostante si pensi di aver capito tutto ci sarà sempre qualcosa che verrà scoperta per poter counterare un determinato tipo di attacco ok e quindi migliorare e portarla all'estremo e così via quindi si migliora una tecnica se ne trova un'altra si migliora se ne trova un'altra oggi voglio farvi vedere un video davvero interessante che ci spiega come poter affrontare durante un fight 1v1 il momento in cui l'avversario riesce a replessare il nostro muro quindi noi siamo in un box ma nonostante l'avversario e noi stiamo cercando di tenere il muro lui riesce a prendercelo vi faccio vedere direttamente uno spezzone video guardate che meraviglia e soprattutto guardate che idea geniale qua stanno facendo vedere appunto in una partita in creativa all'interno del box di questo giocatore c'è una piramide bisogna fare la modifica a doritos questo si chiama in poche parole guardate avete visto come si è modificata la piramide voi immaginate di avere vi faccio vedere mentre va dovete modificare il quadrato in alto a sinistra e in basso a destra della piramide in questo modo il vostro personaggio verrà messo in una posizione in cui voi avrete una linea di tiro sull'avversario ma l'avversario non ha modo di colpirvi guardate attenzione ve lo faccio vedere piano lui vi fa rivedere ora rientra attenzione ecco il quadrato in alto a sinistra e quello in basso a destra subito modifica a doritos e come vedete noi abbiamo praticamente la visibilità sulla testa dell'avversario sembra che lui possa prenderci ma in realtà non è così ora vi farà vedere durante delle partite quello che succede in realtà tenete bene a mente perché è molto interessante l'avversario prende il muro guardate guardate lui ha già fatto la modifica ok con la modifica del muro dell'avversario perché giustamente l'avversario che ti prende il muro il muro te lo apre per poterti sparare e tu hai questa linea di tiro che come vedi appunto è comodissima di nuovo non vi sto poi guardate modificato ritos bam hit gli riprende il muro glielo modifica bam arrivederci ancora prende il muro modificato ritos bam è veramente incredibile ed è veramente una tecnica da provare 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 io personalmente mi ci allenerò perché mi succede troppo spesso che mi prendono il muro è davvero bella non è facile ovviamente fare una modifica così veloce ci vorrà un po di tempo qualche giorno per abituarsi però ragazzi una mossa assolutamente interessante che potrebbe salvarvi da alcune situazioni abbastanza spiacevoli andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ninja fa un passo indietro come sapete ragazzi giovedì ci sono state le nuove serie delle ninja battles su fortnite come si gioca? si gioca praticamente in una modalità molto interessante in trio ma questa volta si sono giocati 23 ok quindi 3 giocatori per 20 team il che appunto ha portato il numero di giocatori in un server a 60 e con grande stupore di tutti i partecipanti e degli spettatori beh la partita le partite sono state veramente molto piacevoli da guardare ninja quindi appunto fa un passo indietro su una delle sue ultime dichiarazioni dove diceva che preferirebbe avere delle lobby pubbliche da 125 giocatori dicendo invece che sarebbe meglio nei tornei fare partite da 60 giocatori nelle sue partite effettivamente si è riusciti a gestire molto meglio tutta la mappa giocando appunto 60 pro player non si si contendeva subito all'atterraggio una location si arrivava non c'è stato il problema della storm surge quindi un altro dei problemi che effettivamente potrebbe rallentare le prestazioni arrivando fino alle parti finale di qualsiasi torneo ed è stata molto più gradevole da vedere quindi una roba che lui tiene in considerazione tutti i giocatori che vi hanno partecipato sono d'accordo e quindi staremo a vedere che magari Epic Games non decida di adottare questa modifica per i futuri eventi soprattutto quelli in trio e ragazzi io per oggi vi ho detto tutte le news che erano presenti vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch ciao ciao